Marcello, un altro premio UAFM Grand Match, non è la prima volta in questa stagione? Sì, non è la prima volta, però questo non conta niente per me, conta solo vincere con una squadra e è questo che oggi abbiamo fatto. Qual è stata la chiave di questa vittoria, Marcello? Avere pazienza, girare la palla veloce, vabbè, primo tempo abbiamo sbagliato un po' troppo, però come abbiamo già detto, gol 100% arrivo se giochiamo così. E adesso, focus, il campionato è il Milan e il derby. Sì, adesso focus, manca 3-4 giorni, tutti lavoriamo bene, tutti siamo pronti e non mi diamo l'ora di giocare. Grazie Marcello, complimenti ancora. Grazie. Milan, quanto pesano questi punti stasera? Pesano tantissimo, era una vittoria molto importante, sapevamo che poteva essere una parte decisiva, siamo contenti che siamo riusciti a vincerla, adesso siamo sempre in gioco, ci aspettano ancora due partite e vogliamo sicuramente andare davanti. A chi vuoi dedicare il tuo gol stasera? Sicuramente a mia figlia, a mia famiglia. Adesso ovviamente testa il Milan e il campionato. Sì, ci aspetta una partita tosta, il derby è sempre una partita tosta, il Milan è un buon punto e noi dobbiamo scendere in campo domenica e cercare tre punti, cercare la vittoria. Grazie, complimenti. Grazie. Grazie a tutti.